Questo video riguarda i migliori 3 aspirapolvere robot. Il vincitore della qualità è il Xiaomi Mop 2S. Grazie all'ausilio della navigazione laser LDS e dell'algoritmo SLEM, il robot aspirapolvere e lavapavimenti è in grado di mappare la disposizione interna delle stanze di casa in modo efficiente, gestire facilmente ambienti complessi, creare e salvare mappature con precisione, i chip quad-core RK3308, allocato con l'algoritmo SLEM. L-Robot aspirapolvere e lavapavimenti realizzerà una mappatura delle stanze in modo automatico alla sua prima pulizia. Può inoltre supportare la pulizia delle sottoaree ed evitare le aree vietate per la gestione multipla. Aspira la polvere fluttuante e rimuove le macchie ostinate, varie modalità di aspirazione e lavaggio disponibili, per pulire casa in modo efficiente e soddisfare le tue esigenze. Con tre impostazioni del livello dell'acqua, il robot aspirapolvere lavapavimenti eroga la giusta quantità di acqua, mantenendo il panno adeguatamente umido. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è l'Elefant M210 Pro. Dal 2020 al 2022, il nostro robot aspirapolvere è passato dall'IM200 un originale all'IM210P di terza generazione, con una funzione migliore, un suono più morbido e una maggiore efficienza di ricarica. Il design innovativo incorpora la tecnologia FreeMove 3.0, M210P più preciso e intelligente. Evita di cadere dalle scale o di rimanere bloccato e regola in modo intelligente il tuo percorso per eliminare gli ostacoli. LIM210P aspirapolvere robot è ottimizzato per la pulizia dei tappeti. Riconosce in modo intelligente il tappeto e aumenta fino alla massima aspirazione per prestazioni di pulizia ottimali. M210P ha una potente aspirazione da 2200PA. Due spazzole laterali concentrano polvere, peli di animali domestici e immondizia. Quindi aspirato dalla bocca di aspirazione brushless appositamente progettata per le famiglie di animali domestici, per ottenere un eccellente effetto pulente. Con una bassa potenza di aspirazione selezionata, il robot aspirapolvere M210P può funzionare su pavimenti in legno per un massimo di 120 minuti. Il vincitore del premio è l'OKP Robot Aspirapolvere. Apirapolvere Robot alimentato da un potente motore digitale, OKPK2 presenta una forte potenza di aspirazione e un design dell'ingresso unico che non si intasa con i peli degli animali domestici come altri robot aspirapolvere con una spazzola rotante. Robot aspirapolvere alto 7,5 cm e largo 28 cm progettato per lo spazio stretto tra letto, divano e angolo della parete, evita il piccolo spazio che lo ostruisce e migliora notevolmente il tasso di copertura. Il tempo di lavoro raggiunge i 100 minuti. Prima di tornare da una cena con i tuoi amici, renderà la stanza pulita e priva di polvere. L'utilizzo dell'app OKP Life può creare facilmente un programma di pulizia, modificare la modalità di pulizia, controllare la direzione di pulizia. Dotato della tecnologia del sensore a infrarossi anticollisione integrato 6D aggiornato. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.